Nel 1669 l'alchimista Brand, alla ricerca della pietra filosofale, fece fermentare l'urine e si accorse della formazione di un prodotto luminescente, da qui la scoperta dell'elemento portatore di luce, il fosforo. Il fosforo è un elemento essenziale della vita, un componente insostituibile dell'agricoltura moderna che non può essere impiazzato né nei mangimi né nei fertilizzanti. Da allora sono passati esattamente 350 anni e il fosforo comincia a scarseggiare. Il fosforo infatti è stato inserito dall'Unione Europea nella lista delle materie critiche e risulta essere uno degli elementi a disponibilità limitata nella tavola periodica elaborata dalla EUCHEMS, European Chemical Society, in occasione della dichiarazione da parte dell'UNESCO del 2019 come anno internazionale della tavola periodica. Come per il petrolio si parla di picco del fosforo, cioè il punto oltre il quale la produzione non sarà più in grado di soddisfare la domanda. Alcune analisi dei scienziati del Global Phosphorus Research Initiative hanno stimato che il fosforo che stiamo estraendo dalle miniere basterà per soddisfare le nostre esigenze alimentari solo per i prossimi 30-40 anni. Quasi il 90% delle riserve di fosforo si trovano in tre paesi, Marocco, Cina e Stati Uniti. E questo potrebbe causare tensioni internazionali, oltre che un innalzamento dei prezzi, senza contare gli eventuali problemi energetici che potrebbero lasciare il pianeta al buio. Il ciclo del fosforo è un ciclo sedimentario, in quanto il comparto di riserva è costituito quasi esclusivamente da rocce fosfatiche. Il fosforo entra in circolazione per azione erosiva o solubilizzazione dei fosfati. Il fosforo viene immesso nella biosfera mediante assorbimento dei radici delle piante. Generalmente il fosforo di cui le piante necessitano viene tratto dalla decomposizione di molecole organiche, a opera di funghi e batteri. Il fosforo prodotto risulta però insufficiente per lo sviluppo delle piante, quindi viene implementato attraverso l'utilizzo di fertilizzanti chimici. Infine, la pioggia provoca la solubilizzazione di una piccola quantità dei sali, composti del fosforo, che si accumulano nelle acque. Attraverso la nutrizione dei carnivori e del bivori, il fosforo viene assorbito agli organismi e ritornano nel suolo dopo la loro decomposizione. Questa risorsa, già così scarsa, viene usata in maniera inefficiente e ci sta contribuendo all'esaurimento del fosforo facile, ovvero dalla semplice reperibilità. Infatti, dalle analisi di flusso della Francia, per esempio, risulta che il 50% del fosforo totale utilizzato va perduto, circa il 20% nelle acque reflue. La stessa percentuale attraverso l'erosione e la liscivazione e il 10% sotto forma di rifiuti alimentari e altri rifiuti biodegradabili. 36 kg di fosforo per persona vengono estratti nel mondo. È un numero da rimponenza straordinaria che dovrebbe far riflettere l'opinione pubblica su quanto ancora una volta l'uomo stia svuotando l'ambiente delle sue materie prime. Un altro dato ancora più spaventoso deve farci pensare. 130.452 tonnellate di fosforo solo in Italia ogni anno vengono perse durante il ciclo antropico. Stiamo letteralmente distruggendo il nostro pianeta a partire dallo sfruttamento eccessivo delle poche maniere di fosforo presenti nel mondo. Oltre a questo sono presenti ulteriori problemi. Prima fra tutti è l'eutrofizzazione. Gli apporti di fosforo alle acque superficiali derivano da scarichi di acqua reflue e da scarichi naturali, ovvero le piogge e i terreni. Le fonti principali sono di origine domestica, industriale e agrozotecnica. Una volta arrivato nei fiumi, laghi o mari, il fosforo fornisce una grande quantità di nutrimento alle piante acquatiche e alle alghe, provocando il progressivo aumento dei fenomeni di eutrofizzazione che compromettono la qualità, salute e biodiversità degli ecosistemi marini. Inoltre, quando le alghe terminano il loro ciclo vitale, si generano enormi masse di sostanza organica sul fondale. La decomposizione batterica della vasta quantità di alghe che si deposita sul fondo richiede un enorme investimento di ossigeno, determinando fenomeni di ipossia e anossia, ovvero rispettivamente l'insufficienza e la totale mancanza della stessa sostanza nell'ambiente. Un'altra problematica è l'immobilizzazione del fosforo nel suolo. Dal momento che le piante richiedono elevate quantità di fosforo per svilupparsi, vengono utilizzate anche dei fertilizzanti chimici per incrementarne la concentrazione. Però la maggior parte del fosforo viene perso, in quanto una parte si fissa nel terreno e la restante parte, attraverso le acque sotterranee, viene trasportato alle acque superficiali, provocando i fenomeni di autofilizzazione trattati in precedenza. Un ulteriore problema legato al sovrasfruttamento delle riserve di fosforo è la radicale modifica dei paesaggi dove queste risorse sono collocate. Un esempio relativo a questa problematica riguarda la condizione dell'isola di Nauru, situata in Micronesia. Il deposito cosiddetto primario, uno dei più ricchi del mondo, con una percentuale di fosforo all'origine di quasi il 36%, è praticamente finito nel 2000. Attualmente l'estrazione è ferma perché rimangono solo pochi milioni di tonnellate di minerale e l'estrazione potrebbe riprendere per un tempo limitato usando il fondo del deposito, che però ha una percentuale utile di circa la metà, ma i costi ne sconsigliano la gestione. Quell'isola basava la propria economia sulle riserve di fosforo presenti ed è stata per qualche anno il paese più ricco del mondo, adesso in bancarotta. Per di più l'80% del suo territorio è stato devastato dall'attività mineraria, sembra la luna. Storia simile a Macatea, situata nella Polinesia francese. Le percentuali di partenza nel mondo sono comunque in genere molto più basse e devono essere aumentate usando dei processi che sono costosi in energia ed economicamente. Dal punto di vista economico sorgono altrettanti problemi. I costi di estrazione infatti rasentano i 4 miliardi di dollari l'anno, cifra esorbitante. Il costo energetico di estrazione è cresciuto parallelamente alla difficoltà di estrazione e con esso il costo del minerale, che ha seguito bene il trend del costo dell'energia fossile. Picco nel 2008 con il lanzamento dei prezzi del 700%, rimbalzo nel 2009 e incremento lento ma costante e inarrestabile, con valori che sono attualmente rimasti doppi di quelli di qualche anno fa. Il costo energetico dell'estrazione del fosforo è enorme. Occorre scavare il minerale in genere da miniere a cielo aperto, con enormi scavatori, macchine enormi, dotate di giganteschi motori termici ed elettrici, con ruote alte 4-5 metri, oppure in assi trasportatori lunghi decine o perfino centinaia di chilometri, che ricordano le descrizioni dei romanzi di fantascienza. Nonostante questo impiego di tecnologia, le perdite di minerale sono molto elevate, sia in fase di scavo che di trasporto che di trattamento. L'impoverimento delle fonti e il peso crescente dei produttori maggiori che stanno ricorrendo via via di depositi di sempre minore qualità, ha comportato un problema di impurezze nel fosforo prelevato dai riservi in Marocco. C'è una percentuale di cadmio addirittura che tende a rimanere, ad accumularsi nei terreni dove il concime viene sparso e questo problema crescerà nel corso del tempo. Problemi legati ai concimi fosfatici ce ne sono anche di inaspettati. Infatti nei depositi di fosforo c'è una concentrazione prevalentemente elevata di uranio. Questo comporta un impatto radiologico dell'industria dei fertilizzanti. Inoltre, una eccessiva diminuzione delle riserve di fosforo potrebbe causare una grave crisi economica. E siccome il fosforo è principalmente usato nei fertilizzanti, una sua diminuzione comporterebbe anche la riduzione degli alimenti e questo comporterebbe gravi tensioni sociali principalmente per due motivi. Sia per le eventuali carestie che si verificherebbero, sia per un monopolio che si registrerebbe nei paesi nei quali si trovano queste preziosi riserve di fosforo. Per concludere vorrei citare il famoso scienziato Isaac Asimov che già nel 1959 scrisse un articolo nel cui titolo appare oggi come un avvertimento il fosforo è la strozzatura del futuro della vita.